Molti di noi si innamorano di personaggi illustri del passato perché ne avvertono l'attualità, l'attualità di Dante, l'attualità di Leonardo, di Piero della Francesca, anche se l'attualità di quei signori è abbastanza improbabile, tanto per dirne una non conoscevano il cellulare ed è anche per questo che è improbabile che noi possiamo immaginare, pensare il mondo come lo immaginavano o lo pensavano loro ed è altrettanto improbabile che essi potessero pensare il mondo come lo pensiamo noi.